Delle notizie orribili Stasera possiamo fare qualcosa di speciale per una persona speciale Esprimiamo un desiderio Grazie Fa che guarisca Ecco a voi un artista che è stato indetta alle classifiche con 32 singoli E che ha venduto 4 milioni e mezzo di album Diamo il benvenuto a Jeremy Camp Ti vuoi sposare? Sì Ma lei guarirà? Non lo so mamma Figliolo hai soltanto 20 anni Conosci questa ragazza da poco Sono destinato a stare con lei non so dire perché lo so e basta Voglio che tu sappia che in qualunque caso In qualunque circostanza Io sarò con te Ogni passo ogni momento sarò con te Ci sono e sono pronto a tutto Prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita Sarò l'amore della tua vita e la tua più grande fan E se fosse questo il mio destino? Smettila Sei tu quella forte, non io Io ho solo tante domande Che cos'altro posso fare? Continuo a pensare Che se la vita di una sola persona cambierà grazie a quello che sto attraversando Ne sarà valsa la pena Sapete quale film può vantare il bacio più lungo? Si tratta di Elena Undan del 2010 Nel quale le due protagoniste si scambiano un bacio di ben 3 minuti e 24 secondi 18 secondi in più di quello immortalato in You Are In The Army Now del 1941 Se siete veri cinefili questa maglia fa per voi In infobox il link per averla Ciao da Wendy